Tutto pronto per questa 45esima finale nazionale del Gran Premio Giovanissimi che quest'anno si disputerà a Cortina d'Ampezzo. Evento patrocinato da Amsi in collaborazione con un partner unico come Kinder, molto vicino allo sport, già presente in 28 paesi con il metodo Kinder Joy of Moving. Voglia di muoversi, voglia di avvicinare queste nuove generazioni a fare sport attraverso principi sani, attraverso il divertimento, fare nuove amicizie e non basarlo solo ed esclusivamente sotto il punto di vista della performance. Detto questo, non mi resta altro che darvi appuntamento in pista il 23, il 24 e il 25. Ciao!